Sono venuto ad Asti, in modo particolare per i Giuseppini, perché ho usato i Giuseppini con cui, oltre ad avere questo legame adesso, attraverso la congregazione degli istituti per la vita consacrata e la società di vita costolica, c'è anche un rapporto di vita, perché loro hanno una delle missioni più antiche, più belle, proprio dove avevo io e la mia famiglia, in Brasile, nel Paraná e nella regione di Amucarana, Rodrina. E allora l'invito di padre Michele è stato per me una gioia grande, e sono venuto io, anche padre Donato, che è il segretario particolare, con me, un camigliano, un altro religioso, che mi aiuta così in tutto questo mio, in questa mia missione. Non abbiamo anche pensato che fosse il giorno dei quattro anni dell'Europa, perché San Cirilo e San Betonio sono stati importantissimi per l'Europa e per tutta questa parte degli eslavi, e poi persino inventato un alfabeto liturgico per la traduzione dei testi liturgici, che dopo è venuto a chiamare veramente l'alfabeto ciriaco, no? C? Cirico. Cirico. Cirico, come è cirico. E così. E... Cirico, no? E' un'altra cosa. Sono contento perché noi nella Chiesa abbiamo bisogno, in questo momento, di questi campioni di santità e di amore, veramente, al nostro popolo, e che hanno lasciato questa eredità così grande, dicendo che Dio porta avanti le cose. Il capitolo degli Oblati Giuseppini, già da molto avanti, e con tanti risultati molto belli. E noi abbiamo potuto vivere questa giornata di oggi sentendo, penso in parte, la bellezza di questo che diceva la prima lettura di oggi, questa consolazione che viene a Gerusalemme, la città in cui Dio abita. E questa Gerusalemme è la Chiesa, questa Gerusalemme siamo noi, dove Dio abita, e noi continuiamo ad abitare in noi. E dove c'è Dio, c'è la consolazione vera, anche in mezzo alle provazioni che possono esserci nei diversi periodi della storia. Se siamo qui, se abbiamo questa eredità così grande della vita cristiana, e anche della vita consacrata, è perché molti, prima di noi, hanno creduto all'amore di Dio, hanno seguito Dio con passione come unico grande ideale della propria vita, hanno interpretato i suoi giorni a partire di quello che il Signore faceva in noi. Noi passiamo, Dio non passa. I tempi cambiano, Dio rimane, e noi dobbiamo essere capaci di vivere in questo momento con intensità, anche nella vita consacrata. Abbiamo parlato di queste cose oggi. Qui siamo in mezzo a una congregazione missionaria, che lavora molto vicino ai Vescovi, nel lavoro pastorale, e sentiamo che questo ascolto vostro in questi giorni, dall'ultimo giorno di gennaio fino al 18, l'ascolto del vostro fondatore, San Giuseppe Marello, che è qui con noi vicino nel suo corpo, nel suo resti mortali, e anche questa vicinanza al Vangelo con apertura del cuore, e questo insieme, non da soli, si sentiva oggi che voi fate un cammino corretto. Io ero contento, sono contento, e abbiamo visto che noi, nella congregazione, abbiamo bisogno di venire a ascoltarvi dove siete con i vostri carismi, perché questo ci aiuta moltissimo a saper dopo portare il Santo Padre, da parte vostra, o di quello che portate voi direttamente, portare questa vita. lo facciamo con il cuore molto aperto. Porto a voi anche il saluto del segretario, il nostro generale, che è Monsignor Joseph Tobi, lui è un'onda americana, degli Stati Uniti, e una delle prime cose che abbiamo voluto fare nella congregazione è unire noi due superiori con una fraternità vera. E io ho detto a lui, Monsignor Tobi, tutto quello che avrò nel mio cuore io comunicherò a te. E lui subito ha detto così, io faccio la stessa cosa. E quando abbiamo detto questo, ci è sembrato che abbiamo dato come un passo nuovo nella congregazione, che abbiamo sofferto in alcune divisioni, alcuni non vedevano più che noi poggiavamo più da vicino la vita consacrata perché c'erano dei ricordati. E abbiamo incominciato a visitare le famiglie, le case generalistiche, i capitoli, i consigli. Adesso forse già abbiamo superato centinaia di case che abbiamo visitato in un anno. E siamo molto contenti. Cosa vogliamo? Vogliamo interpretare questo momento insieme a tutti i carismi, cercando di ascoltare il Signore in quello che lui vuole, perché ci sono cose che stanno cambiando. Ci sono sensibilità che dobbiamo imparare nella cultura attuale e ci sono valori che noi non vogliamo lasciare cadere perché provengono dal cuore del Vangelo. la ricchezza che portiamo dalla nostra storia immensa. Però tante volte oggi ci sentiamo un po' smariti in molti di noi. perché noi sentiamo i problemi che vengono da tutto il mondo che riguardano la vita consacrata. Però sappiamo che Dio sta lavorando e trasformando questo immenso mondo così ricco dei nostri carismi. una cosa che sentiamo nel cuore bisogna riscoprire il nostro innamoramento da parte di Dio. Dio ci ama immensamente. Bisogna sperimentare questo in un modo nuovo. L'innamorato dicevamo stamattina è un pazzo perché lui non vede le difficoltà lui va dietro chi ama. Se questo è il libro della nostra esperienza di consacrata perché abbiamo sentito lo sguardo di amore di Dio verso di noi e se noi alimentiamo questo come una risposta come una risposta di amore noi possiamo aspettare che il Signore farà grandi cose. è il momento anche di fare questo insieme riscoprire di più dentro del nostro carisma la vita fraterna trasportare questo amore di Dio dentro la comunità uno dei grossi problemi di oggi è che molti religiosi stanno uscendo e alle volte sono gruppi enormi enormi ultimamente abbiamo avuto momenti in cui sono uscite 150 persone in una volta in un posto 300 da un'altra parte e cosa dicono? Non sono più felice dove sono voglio cercare di essere felici e alle volte quello che conta tanto è che non c'è più la vita di famiglia non c'è più un rapporto immediato fresco giusto corretto quello che dà la vita per l'anno per via del Vangelo per via dell'amore del Signore e noi dobbiamo ripristinare tutto questo dobbiamo ricostruire questo dove non c'è non lavorare in altro modo le nostre facce devono tornare ad essere felici non chiuse il Signore penso che ci sta portando un poco da questa parte e io penso che questo capitolo significa anche questo per questo sono anche molto contento che sono venuti anche le suole a stare con noi questo piccolo momento e dobbiamo dire che li abbiamo moltissimo perché il suole è stato sempre lì nella comprensione di più degli uomini ma anche perché sono di più degli uomini sono mi sembra 70% dei consagrati le uomini sono 30% questo portare il Vangelo che oggi il Vangelo ci dice non che Gesù ma inviato i suoi apostoli la congregazione degli uomini di San Giuseppe l'ha fatto in questi anni più di cent'anni della congregazione ma dovrà farlo ancora gli altri carismi lo stesso però forse adesso il Papa ci dice che la cosa più importante è dare una testimonianza che noi siamo veramente discerti di Gesù allora a noi consagrati a noi Vesuti a noi sacerdoti a noi diacoli è chiesto anche un tornare sui cammini dei discepoli paragonare la nostra vita con il Vangelo vedere se questo regge o se questo non regge più c'è una cultura che non è del Vangelo che può essere entrata e che non serve e che deve essere tolta deve essere purificata il Papa sta usando anche molto un altro concetto molto bello dobbiamo arrivare alla trasparenza quello che appare di noi deve essere quello che è nel nostro interno non una separazione tra questi due punti ma essere essere quello che noi facciamo a Vangelo secondo Vangelo e dopo diceva anche avere una cura pastorale gli uni degli altri come il pastore che cura la sua pecora così noi sentire la responsabilità nostra di trovare rapporti d'amore con l'altro per stare con lui curando e camminare con lui è una strada impegnativa però bella la Chiesa ha la sua ricchezza e dipende di noi di fare questo cammino io ho tanta fiducia in questo senso però tornare allora a questo valore primordiale del nostro Battesimo lì Dio ha tolto il nostro peccato Dio non ha guardato più al nostro peccato e questo è per noi importante non perché noi abbiamo tanto meglio ma perché lui è misericordio e così gratuitamente lui ha fatto quest'opera in Gesù e la seconda cosa che il Battesimo ci fa veramente figli di Dio è l'unica grande dignità che abbiamo tutti noi tutto quello che c'è di grandi di ministeri di carismi di doni le nostre diversità che ci arricchisce moltissimo tutto questo serve serve veramente a costruire questa Gerusalemme dove Dio la vita chi ha la Chiesa io vi auguro allora un capitolo che ti muove che vanno avanti sei anni nel senso di un nuovo capitolo della storia del vostro carisma anche per quelli che sono con noi questo camminare insieme verso questa direzione con sicurezza per chi noi sappiamo di chi abbiamo messo la nostra fiducia e lasciare il Signore lavorare e che possiamo dare questa testimonianza con semplicità forse diventiamo un po' meno persone della Chiesa ma bisogna che ci sia questa vita vera è un momento di a volte un po' di dolore per questo rinnovamento di purificazione ma è anche un momento di grandezza cerchiamo di vedere duro con la testimonianza donato sia il Signore nostro Gesù Cristo semplicità grazie grazie Grazie.